dall'agenzia russa TASS che cita fonti politiche bielorusse secondo le quali una delegazione ucraina sarebbe in partenza per Gomel, la città della Bielorussia, per avviare negoziati con la Russia. Un qualcosa che al momento non è stato ancora confermato da Kiev, come vi abbiamo detto in apertura di telegiornale questa mattina Zelensky ha rifiutato la destinazione di un tavolo da tenersi in Bielorussia perché appunto la Bielorussia è complice, è alleata e sta cominciando azioni militari proprio contro l'Ucraina. La Russia garantisce la sicurezza della delegazione, rende noto una fonte citata dalla TASS stessa e i negoziati, sempre secondo la TASS che cita fonti politiche bielorusse, lo ricordiamo, potrebbero iniziare nelle prossime ore. Al momento da Kiev però non c'è nessuna conferma di questo. sentivate Paolo